Una volta sono stato in un cavo mentre veniva rapinato. Se prima era Las Vegas, adesso sono Amsterdam e Roma. Gli americani. È un poliziotto. Se prima era un casino, adesso è un museo. Oh, visto Ocean. Se prima erano 11, adesso sono 12. La prossima volta che ti vedo, ti porto in prigione a fare l'otto. Ocean's 12. Mercoledì alle 20. Con Inizio.